Sono contento perché, a parte per il valore del giocatore, però sono contento perché in questo momento nella Premier League come facciamo le partite, se le giochiamo tre in una settimana bisogna avere più giocatori possibili freschi per poter fare bene tutte le partite. Io penso di sì, lui forse ho l'unica certezza che giocherà, penso di sicuro, proprio perché è rassurdo, siamo stati bravi, senza di lui abbattere l'Everton lui è fresco e credo che lui sarà impiegato di sicuro. Okaka lo conosco da tanto, Okaka è un giocatore proprio fatto per la Premier League, ha tutto per questa competizione che ha potenza, forza, è un combattente, sa giocare a pallone, lavora per la squadra, è un generoso. Quindi questo lo sapevamo, noi bisogna portare questo giocatore al top che ancora non lo è al 100%, poi lui non avrà problemi in questa categoria. Io ho detto anche ai miei giocatori proprio oggi che noi se guardiamo i confronti anche delle altre squadre è bello poter dire che se noi riusciamo ad essere al top possiamo mettere in difficoltà chiunque. Questa è una certezza che abbiamo e dobbiamo sfruttarla, pensare che ogni partita ce la possiamo fare. Questo è il nostro spirito e ogni volta sarà una verifica, vedremo come va con il City e poi successivamente.